Tutto pronto? Si aprono le gabbie. Partiti! Cavalli della quinta corsa del pomeriggio Smartrag e soprattutto Dicono di te sono i due che hanno accettato la partenza alla fine Smartrag si adegua al volere proprio di Dicono di te che si porta in deciso vantaggio la terza posizione occupata da Excel Griff, galoppa per corsia esterna e favorito Sopran Dublino poi dietro a questi troviamo Angel Strumpet e il gringo va tutto bene Italian King a chiudere il drappello dei partecipanti si procede così anche con una certa decisione da parte del pesino Dicono di te con Mario Sanna in sella una lunghezza e mezza da gestire nei confronti di Sopran Dublino che ha migliorato la sua posizione adesso posizionandosi in seconda a tre quarti dal battistrada in terza all'interno con la giuba bianca arancio Smartrag poi con la giuba completamente nera la stella viola il grigio Angel Strumpet in quinta galoppa invece l'anziano Excel Griff a precedere e il gringo poi Italian King l'altro grigio ed in coda a tutti va tutto bene siamo già in retta d'arrivo con gli ultimi 800 metri da percorrere Dicono di te sempre davanti al suo esterno si presenta subito Sopran Dublino in terza corsia anche Angel Strumpet Smartrag deve cercare lo spazio in questo momento ne è privato ma è comunque quarto lungo la corda dietro a questi Excel Griff prova a farlo spunto spostando al centro della pista e il gringo per ora glielo ha impedito poi ancora più alle loro spalle c'è Italian King e va tutto bene torniamo in cima perché mancano 350 metri da percorrere Angel Strumpet ha messo la marcia in più e adesso è passato il leggero vantaggio Sopran Dublino che di dentro tiene botta ci prova anche Excel Griff alle loro spalle nel tratto conclusivo però Angel Strumpet ha fatto bene i conti va in assoluta scioltezza facendo questa bella periziata nei confronti di Sopran Dublino e per il terzo Excel Griff Angel Strumpet con Alessandro Fiori dunque colpisce nell'handicap sui 1800 in pista grande per il grigio importato è la quinta affermazione in carriera la seconda da quando è in Italia figlio di Dark Angel allenato e di proprietà di Paolo Aragoni si guarda alle spalle Alessandro Fiori ormai la minaccia è passata vince bene Angel Strumpet quota conclusiva di 9 e poi per il secondo posto e vedete sono vicini poi Sopran Dublino e Excel Griff verosimilmente nell'ordine da Capannelle per la quinta è tutto grazie a tutti grazie a tutti